Buonasera a tutti amici, bentornati sul canale, ringrazio tutti coloro che hanno deciso di iscriversi, ringrazio per i mi piace, per i non mi piace e anche per tutti i gradevoli commenti che avete lasciato. Ricordo che questo canale è dedicato in linea di massima alle persone che praticano hobby in casa, che magari si cimentano nel riparare qualche oggetto che in alternativa sarebbe destinato alla spazzatura. Detto questo, amici, in questo periodo in effetti è rientrata poca roba da riparare, causa il periodo che stiamo vivendo tutti quanti purtroppo. Ho messo sul banco un po' di merce da sistemare, abbiamo questo gruppo di continuità, questo oggetto della Parkside, anche se non vado d'accordo con questi oggetti cinesi di scarsissima qualità, un carica batteria con una batteria per un aspiratore ed in definitiva questo trapano che quasi sicuramente sarà più vecchio di me. A tutti gli effetti, amici, ognuno di questi oggetti ha un motivo per fare un video. Io invece vorrei soffermarmi in particolar modo su questo trapano. Si tratta di un vecchissimo trapano della Steyer. Questa è l'etichetta originale dove vince il modello e le varie caratteristiche. Ho deciso di fare un video su questo trapano perché l'oggetto è di un carissimo amico che riferisce che l'oggetto è un cimedio di famiglia. Ricorda in particolar modo la sua gioventù quando le persone di famiglia lo utilizzavano. Oggi purtroppo ha smesso di funzionare e vediamo se possiamo fare qualcosa per accontentare il nostro amico calcolando il fatto che ormai di questo trapano qui non esisterà più alcun ricambio tranne qualche piccolo particolare. Precisazione vuole, amici, che sicuramente non sarà un grande video. Però se viene paragonato all'età dell'oggetto e il desiderio di vederlo rifunzionare può sicuramente far gioire qualcuno. Spenderemo insieme qualche minuto del nostro tempo per cercare di capire se è possibile ripararlo. Amici, giusto spendere qualche secondo del tempo per dire che questo oggetto è veramente di ottimissima qualità. Oternamente non siamo più abituati a vedere oggetti con dei materiali plastici così robusti, con il reparto trasmissione Endural. Comunque in ogni caso se ne può apprezzare sicuramente la qualità dei tempi che furono. Oggi questi oggetti sono praticamente scomparsi dal commercio. Va bene, cominciamo e vediamo che cosa possiamo fare. Ok, cominciamo amici. Inseriamo l'energia elettrica. Bene, e vediamo che cosa fa. Niente, potevamo già immaginarlo. Cominciamo con lo smontaggio, quindi comincieremo con la rimozione della carcassa per verificare se dalla rete elettrica arriva energia sul trapano. Allora, amici, cominciamo col verificare l'integrità del capo. In linea di massima i due poli dell'energia elettrica entrano nel trapano e finiscono su questi due morsetti. Tramite un piccolo multimetro. Verifichiamo se c'è corrispondenza tra i due poli in ingresso qui sul tasto interruttore. Allora, cominciamo a verificare l'integrità del cavo. Cominciamo con un primo polo casuale. Prova tester. Ok, funziona. Andiamo sul primo contatto. Niente. Andiamo sul secondo. Sì, ok. Quindi questo polo è buono. È buono. Andiamo sull'altro polo, che non sarà questo, ma sarà questo qui. Sì, è buono. Quindi vuol dire che almeno sul cavo siamo ok. Amici, ho estrapolato il tasto interruttore del trapano. E come potete vedere meglio, questi sono i cavi che portano l'energia all'interruttore. L'interruttore poi, tramite questi altri due contatti, dovrà restituire l'energia al motore. Se ci fate caso, già c'è un primo danno abbastanza visibile e ci sarà da studiare. Come potete vedere, uno dei due cavetti che raggiunge poi il motore è completamente fuso e la plastica intorno al cavo, come potete vedere, è molto deteriorata. Quindi sicuramente c'è qualche tipo di problema sulla parte che dall'interruttore trasferisce energia poi al motore. Io direi, facciamo così. A titolo didattico, sganciamo il motore, colleghiamo una lampadina al posto del motore, quantomeno sinceriamoci del funzionamento del tasto. Molta attenzione, amici, alla pratica che stiamo per effettuare. Fondamentalmente questo è il cavetto originale del trapano, che entra nell'interruttore. Esce dall'interruttore, ma anziché essere collegato al trapano che ho già scollegato, è collegato a questa lampadina qui. Colleghiamo l'energia elettrica. Ok, energia collegata. Con moltissima attenzione, senza toccare le parti metalliche, vediamo se la lampadina si accende. No, amici, negativo. Quindi il primo problema, 100%, è il nostro interruttore. E poi abbiamo il problema da risolvere del cablaggio del trapano. Questo ricambio quasi sicuramente sarà introvabile, amici. Quello che possiamo... Naturalmente ho già scollegato la corrente elettrica, come potete vedere. Quello che possiamo provare a fare è cercare di smontarlo, per vedere se possiamo quantomeno ripristinare i contatti. Altrimenti sarà veramente duro riuscire a riparare questo apparecchio. Passiamo dal reparto pronto soccorso e ci trasferiamo al reparto chirurgia. Ok, amici, siamo nel reparto pronto soccorso. Ho già dato un'esaminata generale e ho potuto appurare che questo commutatore, di aver subito qualche tipo di shock dovuto all'umidità, acqua o cose di questo tipo. Tra l'altro vi faccio notare una scritta che difficilmente troverete sugli elettro utensili contemporanei. Un bel made in Italy, ho già provveduto allo smontaggio della borchetta, vi faccio vedere. Ecco qui, sono riuscito anche a non romperla. E come potete vedere dentro è molto corrosa, sporca e questo è uno dei motivi per i quali il nostro interruttore, seppur integro, comunque non funziona. Non vedo segni di bruciatura. Allora, per accorciare un po' il video, quello che farò, amici, mi dedicherò alla pulizia di questo interruttore, vediamo quantomeno se possiamo ripristinarlo. Amici, ho dovuto fisicamente smontare completamente tutto l'interruttore. Allora, sicuramente i contatti erano tutti quanti ossidati e ho dovuto provvedere con moltissima pazienza e calma, con pinzetta e carta vetrata molto fine, provvedere alla pulizia dei contatti. Allora, in effetti un danno c'è. Il cavo fuso che abbiamo visto prima sul trapano è riflesso anche su uno dei contatti. su una delle due plastiche in fondo è leggermente fusa, in particolar modo su questo contatto qui che comunque sono riuscito a pulire. Probabilmente può ancora funzionare questo commutatore, una volta rimontato lo vediamo insieme. Cosa più preoccupante è la fusione sul trapano, vediamo se possiamo ripristinare il motore. In alternativa, vediamo se sarà possibile inventarsi qualcosa. Per accorciare il video, senza firmarlo, provvedo al rimontaggio del commutatore. Amici, per cortesia, fate sempre massima attenzione quando maneggiate l'energia elettrica di rete. Non perdona. Allora, ho ripristinato tutto il commutatore e ci troviamo al collaudo. Ok, vediamo se la lampadina va. Eccola qua. Bene. Ok, allora, diciamo che col commutatore stiamo a posto, andiamo avanti e dobbiamo sicuramente fare moltissima attenzione a questo cavetto che è completamente bruciato, quindi dobbiamo smontare fisicamente anche il motore del trapano, ma non mi dilungherò troppo sullo smontaggio, altrimenti sarebbe troppo noioso. Andiamo avanti. Corpo trapano smontato, amici, molto semplice, non l'ho ripreso ma basta fisicamente smontare le viti che vedete qui e poi si disassembla senza nessunissimo problema. l'indotto motore sembra essere integro. La cosa preoccupante invece, come potete vedere, è qui. vedete che uno dei due cavi è completamente fuso e c'è anche una bella scaldata sullo statore. per vedere se è buono, l'unica cosa che possiamo fare è sostituire fisicamente il cavetto e sperare che lo statore non sia cotto, insomma, ce ne accorgeremo tra pochissimo. Amici, ho separato lo statore e devo dire che in pessime condizioni, almeno per quanto riguarda i cavi. Però, incredibilmente, l'avvolgimento non sembra essere bruciato. L'ho guardato sotto lente ma sembra essere in buono stato. Scaldato sicuramente sì, ma in buono stato. Sarà complicatissimo sostituire questi cavi senza fare danni ma è una prova che possiamo fare. Naturalmente non faccio il video integrale perché altrimenti ci vorrebbe un video da un'ora. Quindi comincio lo smontaggio dei fili e vediamo che cosa si può fare. A dopo. Con molta fatica il lavoro è quasi terminato, come potete vedere ho ricollegato il nuovo cavetto direttamente sul rame dell'avvolgimento. Adesso lo tiriamo dentro, eccolo qui. Naturalmente ho fatto la stessa cosa anche per gli altri cavi ma questo qui che è buono non lo cambio diciamo non per pigrizia ma per non rischiare, che comunque è un lavoro rischioso e potremmo pregiudicare tutti gli sforzi fatti fin d'ora. Direi che possiamo procedere al rimontaggio dello statore all'interno dell'involgolo del tratano. Come vediamo dalle immagini amici, lo statore è già in posizione, ho ricollegato i cavetti sulle rispettive spazzole che poi dovremmo finire, sui porta spazzole che dovremmo finire poi in un secondo momento. Quindi ripassiamo all'accoppiamento delle due semi metà, come abbiamo visto prima bastano solamente tre viti quindi è un lavoro molto molto semplice, basta proprio rinfilare e abitare le viti. Procedo. Amici, trapano completo. Siamo arrivati al momento del collaudo, capiremo se lo statore è rimasto anche lui stesso danneggiato dal calore. Ok, proviamo, inseriamo la spina, vediamo un po' che succede. grande. Bene. Molto bene. Molto bene. allora visto che il trapano funziona e funziona anche bene provvederò anche alla sostituzione di di questo passagomma di questo passacavo non passagomma cercherò di recuperarlo da qualche utensile bene amici sicuramente non è un video non è una riparazione di rilievo però al momento questo è quello che è capitato spero che vi siate divertiti insieme a me lasciate un mi piace nel caso in cui il video dovesse essere di vostro gradimento per la serie quasi tutto da buttare anche questo piccolo trapanetto di qualche decennio fa è un quasi e non un tutto da buttare amici vi saluto e a presto risentirci